Ha centrato tre auto parcheggiate e poi si è dato alla fuga. La polizia stradale di Fano l'ha rintracciato e adesso dovrà pagare i danni ed una multa salatissima. Tutto è successo l'altra sera a Bellocchi di Fano, alla guida di una Fiat Bravo, un giovane moldavo di 23 anni che vive con i genitori a Lucrezia di Cartoceto. Il ragazzo, completamente ubriaco, si è messo alla guida dell'auto. Quando è arrivato a Bellocchi ha perso il controllo della vettura e è finito contro tre auto parcheggiate. Al posto di fermarsi e rintracciare i proprietari ha preferito tagliare la corda nella speranza di farla franca. Le cose però, sfortunatamente per lui, sono andate in modo molto diverso. Grazie a dei frammenti di carrozzeria lasciati sul posto e seguendo le tracce del liquido del radiatore rimaste sul manto stradale, gli agenti della polizia stradale di Fano hanno rintracciato il veicolo del moldavo parcheggiato vicino alla sua abitazione con il motore ancora caldo e i danni visibilmente compatibili con il sinistro. Questa notte purtroppo è successa una cosa orribile per me perché mi è arrivata, mi è giunta la notizia insomma che le mie auto erano, sono state incidentate, sono state distrutte. La notizia mi è arrivata dai miei vicini di casa che hanno sentito durante la notte circa l'una e un quarto un grosso botto, un grosso rumore, sono usciti subito dalle abitazioni ma già insomma la persona che arrivava ad alta velocità poi si è scoperto che era ubriaco, era già andato via, era già scappato pur perdendo pezzi dell'auto. Io mi trovavo al pub con i miei amici quando appunto mi è raggiunta la notizia, sono subito corso a vedere l'accaduto, a vedere quello che era successo e qua insomma a casa mia era già arrivata la polizia che stava già iniziando le ricerche per trovare questa persona. Io ho iniziato a chiamare tutti gli amici, tutte le persone insomma conosciute e abbiamo cercato per la zona Bellocchi, Rosciano, Lucrezia, quando alla fine grazie appunto all'aiuto e al lavoro della polizia è stata trovata l'auto a Lucrezia nella zona industriale. Il ragazzo appunto è sceso dall'auto, l'ha lasciata in un campo, non so di preciso dove e poi è andato via a piedi. Ovviamente ho sporto denuncia questa mattina e insomma speriamo bene dato che era l'inizio di un'attività da poco iniziata, era una cosa per me, era tutto il mio investimento di vita. Il 23enne è stato sottoposto all'alcol test, nel sangue aveva 1,70 grammi per litro di alcol, nonostante fossero già trascorse molte ore dall'incidente. Ora dovrà fare i conti con la giustizia italiana che in fatto di guida in stato di ebrezza non scherza. Oltre ad una denuncia a suo carico il Moldavo dovrà pagare una sanzione che varia da 1.500 a 6.000 euro, aumentata di un terzo perché il fatto è avvenuto di notte. L'importo inoltre verrà raddoppiato per aver causato un incidente stradale. Il giovane automobilista dovrà consegnare la patente di guida rilasciata dalle autorità moldave e non la potrà più riavere per i prossimi due anni e se sarà condannato gli verrà revocata. Per essersi dato alla fuga dovrà inoltre pagare una sanzione di 296 euro, oltre a 113 euro verbalizzati per l'elevata velocità di guida. Strage anche di punti, 10 per aver provocato l'incidente, 4 per la fuga e 5 per la velocità. Il veico non gli è stato sequestrato perché intestato ad un'altra persona.